Sono arrivato fresco da Lourdes dove ho scritto una lettera al Papa e mi sono un po' ispirato in questi giorni. Comunque sapevo del convegno e ho cercato di arrivare in tempo. Quello che ho fatto penso che tutti lo sappiano. Sono il 10 agosto del 2005, la giornata di San Lorenzo, il giorno dopo la distruzione di Nagasaki, sono entrato in una base olandese dove venivano riparati, anzi ammodernati gli F-16. Però non avevo proprio molta sicurezza di trovare questi aerei. In ogni caso mi ero preparato a un anno o due di prigione. Sono entrato con una mazza che ho trovato ad Assisi nel novembre precedente. Questo per me è stato un segno dall'alto che dovevo assolutamente non più riviare questa azione che stavo preparando da anni. Il fatto sta che dopo cinque minuti che sono entrato dentro la base ho visto subito gli F-16. Non è stato difficile entrarci, scavalcare la rete è facile, non c'era nessun controllo di soldati. Ho spaccato un finestrino rafforzato che metteva nel capannone e anche questo con una decina di mazzate, una mazza di 5 kg. Quindi immaginate il fracasso che ha fatto e c'erano centinaia di cani che abbaiavano dentro una base, ma nessuno si è fatto vivo. Mi è passata una macchina a pochi metri di distanza, mi sono appena fatto in tempo a nascondermi e insomma il cuore mi batteva. Però insomma sono entrato. Qualcuno dice che il buco che ho fatto era a forma di cuore, almeno da una foto che si vedeva nella polizia. Ho trovato due F-16 invece di uno. Il primo era con il nuovo sistema Orange Jumper System, sistema di comunicazioni, che stavano come unico esemplare ancora studiando di SystemArl. Ho ritardato questo sistema per almeno 5 mesi, sistema internazionale, che dovrebbe essere comprato anche dalla Svezia e su tutti gli F-16. L'altro F-16 era un F-16 normale. Tutte e due erano a due posti, quindi ho dovuto martellare i comandi e i computer di quattro posti. Ci è voluto un po' di tempo, anche perché la mazza era grossa e lo spazio sono molto stretti questi F-16. Ci sono quasi dei giocattolini, proprio colpire i comandi e volevo colpire anche quelli delle bombe atomiche. Sapete che gli F-16 in Olanda almeno sono gli unici che sono adibiti al trasporto di bombe atomiche. Le bombe atomiche non si trovavano in quella base, ma poco più in là, a 40 chilometri, dove gli F-16 sono a distanza. In Olanda ci sono 30 bombe atomiche, che il governo non ha mai voluto dirne niente. Come anche in Belgio ci sono, è una base segreta, ci sono 30 bombe atomiche. Bene, insomma, ho scritto poi per terra Plowshares, che è l'organizzazione che è iniziata dai fratelli Berrigan negli Stati Uniti, che poi ha preso piede anche in Europa, ho scritto trasformare le spade in aratri dalla profezia di Isaia. Con il gesso ho scritto per terra, poi ho messo questa pietra di Golia, ho scritto pietra di Davide contro Golia, e l'ho lasciata lì. Ho attaccato poi agli aerei cercando di non voler strafare, perché c'erano anche molti elicotteri, altri aerei, tutto intorno. Ho avuto tempo 40 minuti, finché sono arrivati gli operai, alle 7 poi di mattina. Allora con calma mi sono messo a meditare, a suonare il flauto, a mettermi a fare yoga sulla testa. Insomma, attendendo la polizia, mi veniva anche la voglia di scappare, dico magari vado a fare un'intervista in televisione, però ho detto no, non strafacciamo. E adesso, poi ho pian piano tirato fuori i disegni dei bambini, che io vivo anche a Rotterdam, dove ho una figlia di 17 anni, tra l'altro ho anche firmato la mazza, ed è stata lei il momento in cui passava la macchina, che ho avuto questo momento di titubanza, di tornarmene indietro, paura. Ho visto la sua firma, bella grossa, con un pennarello nero, proprio. Allora ho detto, beh, insomma, come dice Gandhi, se, il talismano di Gandhi, se la tua azione può essere utile a un bambino, un giovane, per il suo futuro, non esitare. Vai avanti. Grazie. Naturalmente sulla mazza c'era anche la firma di Don Renzo, il parroco della Baita, vicino a Torino, dove vado spesso a ritirarmi, che era morto pochi mesi prima, e quindi anche per lui ho fatto l'azione il giorno di San Lorenzo, e anche per Lorenzo Porta, il nostro amico di Comisa, così. Anche perché pensavo Hiroshima e Nagasaki c'è più controllo, se lo faccio il giorno dopo, ma anche un po' per paura rinviavo sempre, insomma, alla fine ho detto il 10 agosto comunque è l'ultima data. Buono, ho attaccato i disegni dei bambini, una ventina, tra cui anche i disegni di Anne e Chino, nostra figlia, e uno scritto sul profeta Giona, che aveva scritto Annechi, quando aveva nove anni, che ho trovato così per caso. E come il profeta Giona mi sembravo che anch'io ero così titubante, avevo aspettato così tanto tempo, ed era così, questo fascicoletto l'ho lasciato lì per dire, convertiteli, insomma, come il profeta Giona fu mandato per convertire il popolo da questa strage imminente. La polizia, beh, poi mi hanno arrestato, tranquillo, mani in alto, solite cose, non ti muovere, non toccare niente, però non mi hanno picchiato, e poi nei tre, quattro giorni successivi sono stato interrogato, molto gentili, e ho detto tutto quello che dovevo dire, poi ho iniziato il mio silenzio, anche il digiuno, un po', mangiando soltanto frutta. Mi hanno tenuto in prigione sei mesi, sono stato giudicato il 13, sarebbe ieri, un anno fa, il 13 ottobre, a sei mesi, più 12 mesi se non pago 2 milioni e mezzo di debiti, che poi hanno ridotto a 750 mila, per evitare discussioni. Il 27 ottobre, adesso, due settimane avrò l'appello che abbiamo fatto. L'avvocato, tra l'altro, è un ex pilota di F-16 che ha obiettato all'uso del bottone, delle armi nucleari, e quindi è stato mandato via. E continua la salotta, ed è stato felice di trovare in me un modo per continuare così. Faccia sempre il suo malloppo di 50 pagine, che dura due o tre ore, e insomma questi giudici sono rassegnati ormai. Se ne fregano di tutto questi giudici, a loro non gli interessa niente, però dicono, ma adesso c'è la pausa del caffè, non possiamo andare avanti. E rinviano sempre, tre volte. Però adesso sarà l'ultima, spero, il 27. Poi ci sarà la Cassazione, per cui dopo la Cassazione, che come in Italia dura un po' di tempo, ci saranno i 12 mesi di prigione. I 12 altri mesi di prigione. Nel frattempo io sto studiando un'altra azione. Per cui... Perché hai chiesto da solo? Avevi chiesto aiuto di altri, che non te l'hanno dato? Sì, beh... Tutti sapevano in Olanda, almeno tutti i pacifisti, sapevano di questa mia azione, che stavo per fare. Quindi tra me ho pensato, se vogliono farla, si uniscono. Ma hanno fatto... Il giorno di Hiroshima, loro in 15, mi sembra, sono entrati nella base delle bombe atomiche e hanno occupato la pista. A me se... Cioè, io l'ho saputo, a me non hanno detto niente. Cioè, avrei potuto aggiungermi. Però per dire, io stavo preparando la mia azione, lo sapevano. C'era anche l'azione in Belgio, contemporanea, c'era una marcia. C'era l'azione in Inghilterra, contemporanea anche a Older Maston, che hanno piantato alberi di fichi e di vite. Però erano azioni a meno rischio. Cioè, per il momento non si sentivano. Però c'è stata anche in Olanda altre due azioni simili alla mia, precedenti. In Olanda almeno, e poi anche prima, dieci anni prima, c'era un ex cappellano militare che era sempre in prigione. C'era un'azione con un martello, può essere giudicata anche come... l'espressione di violenza, come risponde? Beh, dice Berriga, non so più se Filippo o Daniel, che i beni, dal latino bonum, sono per buon fine. Se non sono a buon fine, non sono bonum, non sono beni. Quindi non è la violenza nostra, la violenza è loro, noi togliamo questa violenza.